per ora sono solo indiscrezioni uscite dal J Medical ma per Chiesa e McKennie si profilano tempi lunghi Chiesa avrebbe addirittura detto a qualcuno lì fuori verrà lunga verrà lunga aspettiamo i comunicati della società per il momento quindi non facciamo nessuna ipotesi particolare però insomma ci fidiamo di queste indiscrezioni e di queste parole che avrebbe detto Chiesa all'uscita dal J Medical questa mattina ragazzi è così cioè è l'ennesima conferma del fatto che quando va male l'aspetto principale va male anche tutto il resto che quando ci sono problemi in squadra in società in generale l'infortunio è più probabile perché la tua testa non è sul pezzo completamente perché hai pensieri perché hai ansie perché hai preoccupazioni e quindi anche l'infortunio può diventarne diretta conseguenza ieri mi sono espresso in maniera molto esplicita ho detto che rivedendo quello che avevo pensato all'inizio e quello che pensavano in tanti questa squadra non è a livello di pensare oltre un quarto posto o comunque oltre un piazzamento nella prossima Champions che in questo momento si è complicato non solo per i sette punti di distacco che non sono molti perché adesso lui deve ragionare così non i punti dalle prime in classifica ma i punti dal quarto posto ma si è complicato per una serie di situazioni di circostanze di caratura della squadra che anch'io forse avevo senza forse anch'io avevo sopravvalutato all'inizio e perché non ne va bene una allora adesso io voglio farvi ragionare su una questione oggettiva visto che ci si riempie la bocca da altre parti no dei possessi palla dei dati numerici eccetera e ieri si è avuta la dimostrazione di quanto non contino un bene amato cavolo e dico cavolo ieri la Juve ha avuto il 59 contro 41 di possesso palla cosa di cui si è raffreggiata la Lazio di Sarri la settimana scorsa ha tirato verso la porta 13 volte contro 7 e ha perso la partita contro l'Atalanta della quale si tessono giustamente le lodi perché è una squadra organizzata ok ma che però ieri ha vinto la partita come l'avrebbe vinta la Juventus tanto vituperata un gol nato da un errore in disimpegno in appoggio di Morata a macchiare una prestazione che secondo me comunque lui ha svolto egregiamente da regista d'attacco quindi senza mai tirare in porta da regista d'attacco perché questo gli era stato chiesto ok un gol e difesa ad oltranza lo chiamiamo catenaccio perché quando lo fa la Juve lo chiamano catenaccio se lo chiamano lo fanno gli altri si chiama organizzazione quindi rivediamo anche un po qualche cosa no di quello che si dice sempre a puro livello teorico e per riempirsi la bocca ma non c'è nulla di male a difendere un risultato solo che quando lo fa la Juve la Juve gioca male se lo fa l'Atalanta l'Atalanta è organizzata intendiamoci sui termini cerchiamo di essere onesti intellettualmente onesti e ammettiamo anche gli errori come io sto ammettendo il mio io ho ammesso l'errore di aver sopravvalutato questa squadra o di averle dato una valutazione che andava oltre determinati confini perché la immaginavo così la immaginavo così ho sbagliato questa è una squadra che ha grossi problemi tecnici in alcuni elementi che non sono all'altezza della situazione ma è una squadra che comunque ieri ha messo lì l'Atalanta in tutto il secondo tempo adesso non venite a dire che l'Atalanta ha per precisa strategia deciso di giocare così in parte sì in parte no ok se la Juve avesse vinto in questa maniera ieri si sarebbero scatenati i commenti soliti non c'è un gioco non c'è niente sa solo difendersi e ripartire e stop no l'Atalanta ha segnato su una palla appoggiata da Morata se Morata non sbaglia con la palla probabilmente l'Atalanta non segna ma va bene così è il calcio questo è il calcio bisogna avere però semplicemente l'onestà intellettuale di fare sempre commenti equilibrati e distribuire equamente lo stesso commento su tutte le squadre detto questo se la Juve non riesce a fare gol nemmeno in una situazione di questo genere significa che il problema è grave significa che effettivamente nell'ultimo anno barra 2 la presenza di Cristiano Ronaldo ha mascherato il problema perché lui fagocitava tutto e segnava ok questa è una squadra che in 14 partite di campionato ha segnato la bellezza di 18 gol o meglio la bruttezza di 18 gol che sono pochi poi lasciate stare il solito palo o la solita traversa sono tiri sbagliati sono tiri sbagliati ok fanno il pari con quello di Rabiot che viene deviato da dal portiere dell'Atalanta per un millimetro e va fuori ok non è andato dentro lì per bravura del portiere l'altro l'altro per tiro sbagliato di Dybala che prende la parte superiore della traversa non voglio sentire pallare di sfortuna non ne voglio assolutamente sentire pallare c'è un problema di incapacità realizzativa è chiaro che però se tu hai in campo Morata che non tira mai in porta se metti in campo Ken nell'ultimo quarto d'ora e non tira mai in porta e se metti in campo Caio George ancora per cinque minuti e poveretto non può tirare in porta o non riesce a tirare in porta anche per mancanza di tempo è ovvio che non ci si può lamentare più di tanto in questa circostanza di questo dato di fatto ok poi è vero come ha detto Allegri la precipitazione la voglia di strafare chiesa quella palla la poteva controllare meglio senza farsi anticipare da Toloi siamo tutti perfettamente d'accordo su questo aspetto ma poi la palla deve finire in porta in qualche maniera quindi la Juve deve lavorare su questo aspetto perché senza gol non raggiunge neanche il quarto posto senza gol non raggiunge neanche il quarto posto quindi ci sono problematiche problemi endemici evidenti chiari in questa squadra che devono essere risolti al più presto altrimenti il prossimo step è puntare ad un posto in Europa League e quello successivo è puntare ad un posto in Conference League non c'è vergogna in tutto questo sono coppe ufficialmente riconosciute sono competizioni alle quali si è invitati poi a dare il massimo e magari riusci pure a vincerle però 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 se ti chiami Juventus e finisci in una di queste competizioni e ci si ricorda ci si ricorda di questo situazione difficile situazione dura situazione dalla quale si esce come ma magari provando a far girare questa ruota perché la fortuna o la mancanza di sfiga a volte te la crei a volte te la crei e se gira tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi bel gioco brutto gioco schemi non schemi se gira se la palla comincia ad andare dentro forse magari gira anche un po la stagione ma per provare a buttare la palla dentro devi riuscirci a buttarla dentro il tiro che entra nella statistica dei 13 su 7 contro 7 è anche il tiro da fuori area che finisce a tre metri dalla porta ragazzi è tutto molto semplice questa squadra deve fare gol ma per fare gol deve mettere gli attaccanti in grado di fare gol e ieri non ha quasi mai messo gli attaccanti in grado di fare gol la finisco qua ci vediamo stasera con il video di approfondimento ulteriore soprattutto con le notizie che dovrebbero uscire in giornata su mckenny e chiesa che la juve perderà per un bel po di tempo ciao ragazzi